600 pasticche di tramadol, un opioide sintetico, chiamato anche la droga del combattente, sono state sequestrate in un'abitazione di Montevarchi. Lo stupefacente è stato ritrovato nel corso di un blitz della squadra mobile della questura di Firenze. Si tratta di un potente analgesico, in questo caso prodotto da una farmaceutica nigeriana, diventato una delle principali droghe a basso costo e conosciuto anche come la droga dell'ISIS. Il suo uso, infatti, è stato più volte accertato negli scenari di guerra medio orientali, dove viene impiegato per le sue proprietà di eccitante per la capacità di alleviare ansia e percezione del dolore. Spesso viene così utilizzato dai miliziani per prepararsi ad affrontare le battaglie. L'abitazione perquisita nella quale sono state trovate le centinaia di pasticche è risultata in uso di un uomo nigeriano, sul quale sono in corso accertamenti.